no scopo per me è un problema che lo sa cazzo però la gara 1 pericolosi del piede con quello che hai fatto tu guarda nooo, per favore, le mani davanti però così va più fissuta, fa più fissuta questa è proprio sfida aperta allora che faccio? guarda poi, guarda guarda che stavo guardando lo sei vinto questa locca Rita sta pulando il pavimento bella Alessio è giocato ai vivi è giocato a poker si è punto da scuola ha vinto Alessio ha vinto mi rimangono due ore mi rimangono due ore mi rimangono due ore dopo chi mi alza? orazio mi c'è una quale la finezza ma pure la maria giro i gambi oh basta è naturale nooo a pancia e giro su un solo punto d'appoggio per una volta in Dio lo faccio oh quando ero giovane facevo pure meglio è bello io ho due però però io mi ci devo sentire però non lo faccio da tanto tempo il mio cranio tipo ragazzo ma quanto scivola stai stendo? stavo scivola da qualche mano nooo devi lanciare devo cambiare un attimo aspetta dai 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 ti 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 puha noi IL non 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 pol Sed arm eh bella nani